Il futuro del cavallino passa attraverso la società sportiva Rezzo. È stata infatti costituita la new co da Giorgio Lacava, Massimo Anselmi ed Orgoglia Maranto, che dovrà provvedere all'acquisto del complesso aziendale della società Maranto. La ripartizione delle quote sociali è questa, 79% a Giorgio Lacava, 20% a Massimo Anselmi ed infine 1% ad Orgoglia Maranto. Adesso ospetterà i curatori fallimentari relazionare al giudice Antonio Picardi sulla possibile prosecuzione dell'esercizio provvisorio. Abbiamo quindi ricevuto il carteggio relativo alla costituzione di questa società che al vaglio sia nostro come curatori e del nostro consulente, il consulente della procedura e poi riferiremo al tribunale in ordine sia alla costituzione di questo soggetto sia alla possibilità di continuare nell'esercizio provvisorio. Già abbiamo dato i primi dati in tribunale, è tutto sotto esame. E quella parola infatti spetterà alla fine il tribunale di Arezzo? Spetterà il tribunale di Arezzo sulla base anche di nostre valutazioni e del tecnico e quindi il tribunale dovrà vagliare sia i termini della prosecuzione, dell'eventuale prosecuzione dell'esercizio provvisorio sia i termini della proposta così come pervenuta. Quali saranno le tempistiche? Le tempistiche penso che i primi della prossima settimana avremo delle risposte chiare. È importante che queste risposte arrivino in modo tempestivo per evitare che ci sia confusione sia ai fini del campionato sia ai fini delle proposte che sono in ballo. Quindi ritengo che i primi della prossima settimana la parola fine a questa fase si possa porre. Dovrà essere poi formalizzata ovviamente alcuna offerta? Ma l'offerta a noi è stata già puntualizzata, ora si tratta di capire se quell'offerta è completa e apprezzata come congruo oppure no, ma l'offerta è stata già formalizzata. Siete fiduciosi insomma, speranzosi? Noi siamo fiduciosi che si possa arrivare a un esito favorevole dell'esame, però dobbiamo ancora ultimarlo.